Allora, buonasera, vediamo adesso un paio di funzioni di fotopea che permettono di rimuovere il background in maniera efficace cominciamo con una foto, un'immagine che ho fatto con i giorni questa, copiamo l'immagine, andiamo su fotopea facciamo un CTRL V e ce l'abbiamo praticamente già pronta questa foto è interessante perché possiamo chiedergli a lui di estrarre direttamente in maniera molto banale, praticamente con SELECT e poi REMOVE BACKGROUND abbiamo automaticamente l'elaborazione in cui viene scontornata automaticamente DONNA E CAVALLO, quindi capisce lui automaticamente cosa estrarre se no, se per caso ad esempio il cavallo non lo volevassimo non lo volessimo, potremmo fare un altro tipo di eliminazione e cioè quello che si fa col SELECT e il MAGIC CUT allora, col MAGIC CUT perché ci presenta praticamente un po' di verde rosso quindi abbiamo il verde, quello che vogliamo in questo caso se noi ad esempio volessimo soltanto la donna dovremmo averle lei dipinta più o meno in verde e il cavallo per esempio non è verde quindi usiamo il cancellino, questo grigio, erase e cancelliamo il cavallo tutto il verde che c'è sul cavallo lo togliamo quando alziamo il mouse, c'è il tasto del mouse vediamo che il cavallo, adesso c'è ancora perché lo considera identica ma gli possiamo dire che non lo vogliamo quindi usiamo il rosso e gli diciamo che non vogliamo il rosso ma gli dobbiamo dire che vogliamo il dalla nostra donna medievale quindi facciamo così e quindi vedete che abbiamo qui adesso non ha capito ancora bene quindi andiamo ancora a togliere, a rimuovere tutto il pezzo del cavallo questo ad esempio ok e poi andiamo a togliere anche la parte che sta proprio a contatto con la nostra donnina e poi dobbiamo ancora, riduciamo vedete qui abbiamo 71 ecco in pratica abbiamo anche sbagliato perché dovremmo ridurre un po' l'hardness poi promette di essere un po' meno netti nel taglio e soprattutto la size del pennello in modo tale che quando andiamo adesso a dirgli il verde possiamo anche entrare nella testa quindi dire che vogliamo tutto questo vogliamo tutto il velo vedete quindi che aggiunge e quindi lui praticamente sta aggiungendo e possiamo continuare a praticamente a dirgli cosa vogliamo e cosa no quindi questo no quest'altro anche no dobbiamo dirglielo esplicitamente e vedete che lui prende praticamente ciò che gli viene detto e anche qua prende qualcosa in più ok quindi dobbiamo mettere ancora il verde quindi perché lui considera ok quindi vedete che abbiamo praticamente ritagliato solo la nostra signora poi tra l'altro c'è anche il concetto del bordo qua il bordo tra l'altro possiamo vederlo su sfondo nero ecco su sfondo nero si capisce cosa ritaglierebbe e vedete che qui c'è ancora qualcosa di troppo ok ok tagliamo questo quindi più o meno avete capito come funziona praticamente no? e quindi si gioca con il rosso ecco qui tra l'altro ctrl z si cerca di non far mai entrare il rosso dentro l'immagine perché altrimenti diventa un casino e soprattutto l'altra accortezza che il verde e il rosso non devono mai essere messi nello stesso posto quindi si può fare quello che vogliamo però in condizione che non abbiamo mai verde e rosso insieme se per caso volessimo correggere un verde e vogliamo toglierlo dobbiamo proprio toglierlo col pancellino quindi questo è più o meno tutto per l'estrazione diciamo la rimozione del background nel prossimo video vedremo come togliere effettivamente la donna